Sindaco, quella di oggi per lei è una giornata particolare, ha provato ancora una volta però l'affetto e il ricordo che tutta la cittadinanza di Pescara ha di suo padre? Beh sì, senz'altro quella di oggi è una giornata particolare. Il 29 gennaio devo dire per me lo è sempre perché appunto è questo anniversario che ricorre da 36 anni. Per oggi la particolarità sta nel fatto appunto di essere sindaco della città di Pescara e aver toccato ancora una volta con mano l'affetto delle persone. Qui si è appena conclusa una cerimonia breve ma intensa, ricca di significato che poi mi dà il senso di come la memoria non è un valore dell'individuo ma è un valore della collettività. C'erano presenti anche le scuole, questo mi sembra importante proprio per questa idea che io ho di, come dire, staffetta generazionale per raccontare in qualche modo a chi non c'era ciò che è accaduto e affinché poi qualcun altro prosegua nel racconto perché questo fa parte in qualche modo della storia del nostro paese. Quando suo padre fu assassinato lei era bambino però ha ricordi ancora vivi? Io avevo otto anni quel 29 gennaio del 79 quindi un'età tale da avere dei ricordi che restano naturalmente impressi nella mia memoria e che a distanza appunto di 36 anni non scoloriscono. Lei diceva no alla violenza politica? In qualche modo anche questa è una riflessione perché mio padre è caduto vittima al pari di altre persone della violenza politica che si è abbattuta sul nostro paese, il terrorismo, gli anni di piombo. Oggi chiaramente tutto è diverso però uguale la risposta sempre di ferma e netta opposizione a qualunque forma di violenza perché per quanto la società possa avere dei problemi la violenza non è mai una soluzione.